La fisica quantistica è un rompicapo, è un qualcosa di irrazionale, è un qualcosa di antintuitivo. Qualcuno dice, ma se tu dici che l'hai capita, vuol dire che non hai capito niente, la fisica quantistica non la puoi capire perché non è razionale. Perché avvengono dei fenomeni incredibili, contraddittori. Cioè la luce è un po' particella, è un po' onda. A volte è particella, a volte è onda e particella. Capite che siamo all'assurdo. Allora, se noi vogliamo studiare un po' la fisica, la fisica quantistica sta cercando di arrivare al concetto di coscienza, ma ci abbiamo quasi paura perché è qualcosa di trascendente, di spirituale, di eterico. La coscienza non la possiamo toccare, la fisica, tutto ciò che non può toccare, sta ben lontano. Einstein aveva capito questo concetto ed era abbastanza contrario a questo. Lui però diceva una cosa, essendo un genio assoluto, io l'ho rivalutato, perché studiando un pochino di fisica quantistica, di Bohr, mi rendevo conto che dico ma Einstein come poteva andare contro delle evidenze, delle evidenze. La fisica quantistica non ha mai sbagliato una previsione, mai, le ha seccate tutte. Quindi, considerate che dal novecento noi abbiamo avuto da una parte il relativismo con Einstein, quindi lui spiega il macrocosmo, dall'altra la fisica quantistica, dall'altra la meccanica quantistica, che spiega il microcosmo. Ma che lo cava.